Ridimensionamento delle sedi giudiziarie. Il Consiglio dei Ministri salva il Tribunale di Sciacca. Soddisfazioni esprimono in merito il Sindaco Fabrizio Di Paola e il Segretario nazionale del PDL Angelino Alfano. Il decreto legislativo varato, dichiara il Sindaco, è una vittoria di chi, con pervicacia, ha continuato a lottare anche quando tutto sembrava per tutto. Con il provvedimento del Consiglio dei Ministri, conclude Di Paola, è stata fatta piena giustizia. Da Ministro della Giustizia, dichiarato invece l'ex guardasigilli, ho sempre guardato al Tribunale di Sciacca come indispensabile presidio di legalità. La decisione, conclude Alfano, mi pare possa costituire un brillante viatico per una nuova stagione del territorio saccenze. Sul salvataggio del Tribunale di Sciacca interviene anche il deputato del PD Vincenzo Marinello, quest'ultimo in una nota dichiara. La gratitudine va a tutti coloro che, ad ogni livello istituzionale ogivico, si sono adoperati a sostegno del mantenimento degli uffici. Soddisfatto per la decisione del Consiglio dei Ministri, anche il testimone di giustizia, Ignazio Coutrò. Il Tribunale di Sciacca dichiara Coutrò. Ha dimostrato la propria efficacia nel contrasto al fenomeno mafioso, anche, conclude l'invenditore di Bivona, in occasione del processo che ha visto alla sbarra i soggetti da me denunziati e condannati a pesanti pene detentive.